Inizia oggi la marcia del Palermo verso la delicata e fondamentale partita di domenica allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Una gara che davvero potrebbe valere la salvezza per il Rosanero, che ovviamente dovranno pensare anche ad altre due partite. Quella del Carpi in casa contro la Lazio e quella dell'Udinese che giocherà Bergamo contro l'Atalanta. Insomma, la corsa salvezza in 180 minuti. Il Palermo ci crede anche perché la Fiorentina non vince da due mesi e soprattutto la Fiorentina delle ultime giornate è una squadra remissiva. Una formazione che segna e non vince quasi mai. Il Palermo ci può provare anche perché nelle ultime partite sono arrivati sette punti e la squadra Rosanero inizia davvero anche a giocare bene e soprattutto manifestare una voglia di restare in Serie A. Ballardini penserà ovviamente al modulo nei prossimi giorni ma è probabile la conferma del 3-4-1-2 con tre difensori e ovviamente il ritorno di Giancarlo Gonzales che prenderebbe il posto di Goldaniga. Poi a centrocampo Morganella e Rispoli confermati sugli esterni con Ilemark e Maresca in mezzo, Vasquez con due punte in avanti, Gilardino e probabilmente Traikovsky.